Mi accodo a quanto detto da chi mi ha preceduto soprattutto per confermare probabilmente l'inutilità di questo tipo di provvedimento. Sono degli impegni condivisibili, secondo noi sono molta aria fritta, non capiamo chi si prenderà cura di fare in modo che questi punti vengano davvero portati realizzati perché ci sembrano tanti begli impegni che non sappiamo poi alla fine chi dovrà adempiere o rispettare. Finalmente ci si interessa anche la parte bassa della provincia di Como, benvenga, sono quasi emozionato che non viene richiesto di fare qualche infrastruttura mega dato che ce ne sono già previste parecchie, quindi almeno qui non viene citata anche se sappiamo che ce ne sono. Benvenga che ci sia la possibilità di utilizzare i fondi che hanno i comuni in cassa, soprattutto quelli per la compensazione ambientale. Speriamo che serva qualcosa, noi votiamo favorevolmente perché non possiamo assolutamente non condividere gli impegni, però crediamo che questo modo di operare, al di là delle tempistiche con il quale interveniamo, come hanno sottolineato alcuni consiglieri che hanno partecipato alla visita, non ne capiamo l'utilità perché bisogna andare sul territorio per poi fare dei provvedimenti che possano veramente portare delle risposte sul territorio, altrimenti il giro che il Presidente Cattaneo fa è soltanto un giro che lui fa elettorale per far vedere la sua faccia e poi non porta nessun vantaggio. Va bene, utilizziamo la buona scusa, però non è che deve usare questo strumento per farsi la campagna elettorale in vista delle prossime candidature perché altrimenti perde credibilità non soltanto lui ma all'intero Consiglio regionale. Grazie.